Di nuovo in onda, seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo ad occuparci di notizie che arrivano prevalentemente dal nostro paese. Ancora una volta il maltempo sul sito di Rai News si parla di evacuazioni a Carrara e ancora allerta a Genova. Sta peggiorando la situazione del maltempo in Toscana, mentre la Liguria resta in allerta. Criticità rossa per rischio idrogeologico nelle due regioni, Arancione in Piemonte e tante le scuole chiuse. Il sindaco di Carrara, Angelo Zubani, ha firmato un'ordinanza per evacuare tutti i piani terra della zona rossa di Marina di Carrara, nei pressi del torrente Carrione, che nella notte si è gonfiato senza però uscire dagli argini. Arretto, la tamponatura provvisoria realizzata con i massi delle cave del tratto di argine crollato ad Avenza dopo l'alluvione di mercoledì. La popolazione è sempre più esasperata. La città è divisa fra le proteste contro il sindaco, accusato di non aver garantito la sicurezza dei cittadini, e i tavoli tecnici per affrontare una eventuale tracimazione. In Toscana è sorvegliata anche la zona dell'arcipelago per piogge abbondanti. Due grossi pini sono caduti a causa degli acquazzoni durante la notte nella zona di Castelnuovo della Misericordia, in provincia di Livorno. Un pino si è abbattuto su una strada sterrata vicinale, a poca distanza da Via Vecchia Livornese, e l'altro in un campo adiacente. Intanto a Genova massima attenzione per i corsi d'acqua, e già da ieri sera a causa delle forti precipitazioni due rivi sono esondati, il Veilino in Val Bisagno e il rio San Pietro a Cornigliano. Quest'ultimo è uscito dagli argini poco dopo le 22, allagando cantine e primi piani delle abitazioni che sorgono sul rivo. I punti critici sono tutti monitorati, ha detto l'assessore alla protezione civile del Comune di Genova, Gianni Crivello. Il bisagno resta negli argini, la situazione per il momento è sotto controllo, l'allerta 2 permarrà fino alla mezzanotte. Torniamo poi sul Corriere per occuparci di una notizia di cronaca che si intreccia in maniera molto viscerale con la politica e riguarda i fatti accaduti a Matteo Salvini, il leader della Lega. Ebbene, ricorderete tutti l'assalto subito da Salvini alla sua autovettura. Esisteva in realtà un dispositivo di sicurezza per proteggere Matteo Salvini, ma il segretario della Lega avrebbe preferito evitarlo. Sabato mattina non avrebbe avvisato la questura di Milano della partenza e di quella di Bologna del suo arrivo, come invece si era impegnato a fare. E questo nonostante le norme prevedano che la personalità sottotutela sia sempre obbligata a comunicare costantemente i propri spostamenti, i mezzi utilizzati e soprattutto i luoghi di sosta e di soggiorno. E qui viene riproposto poi l'accaduto. Il giorno dopo l'aggressione avvenuta oltre un chilometro dal campo Rom del capoluogo emiliano, gli ordini di servizio della polizia ricostruiscono quanto accaduto e smentiscono la versione del leader del carroccio quando ha dichiarato che gli era stato impedito di entrare. Dimostrano infatti come l'attacco violento degli appartimenti ai centri sociali poteva essere evitato se Salvini avesse rispettato il programma messo a punto dal questore Vincenzo Stingone proprio per evitare qualsiasi tipo di contatto con gli estremisti. E oggi si rischia la replica visto che ci sarà una nuova visita. Si torna dunque al 6 novembre quando i funzionari dell'ufficio Scorte di Milano confermano ai colleghi di Bologna la scelta di Salvini di visitare il Camponoma di la mattina dell'8 novembre. La Digos prende accordi con la consigliera leghista Lucia Bergonzoni, incaricata di organizzare la trasferta per avere comunicazione di tutti gli spostamenti. In particolare si stabilisce che prima di arrivare al casello autostradale avviseranno il capo della Polizia di prevenzione per attivare la staffetta di auto in modo che la vettura del segretario abbia la scorta fino a destinazione. Si decide anche di predisporre un presidio fisso in servizio di ordine pubblico in via Erbosa di fronte all'ingresso dell'accampamento Rom. Ma abbiamo visto Salvini poi aver rifiutato di essere accompagnato nel viaggio e tutto ciò ha portato ai fatti che oramai ben conosciamo. Intanto sono sei le persone già identificate e denunciate e a difesa dei colleghi della Questura di Bologna si schierano numerosi sindacati. Va bene chiedere le dimissioni del ministro Alfano, dichiara Daniele Tissone della SILP CGL ma prendersela con i poliziotti è inaccettabile. Non si comprende perché si sia voluto creare a tutti i costi un caso da scaricare poi su funzionari e agenti in linea anche Loredana Laspina dell'Associazione Funzionari Felice Romano del SILP. Il servizio di ordine pubblico c'era ma se lo staff del leader della Lega non comunica che ha organizzato la conferenza stampa in un posto diverso da quello previsto non si può pensare che i poliziotti abbiano la sfera di cristallo. Per questo chiediamo a Salvini di accertare perché il suo staff è stato disattento esponendolo a quel rischio oppure c'è dell'altro. E qui le ipotesi sono davvero tante. Ci spostiamo poi sul Corriere della Sera aprendo soprattutto la pagina che riguarda la capitale andiamo a vedere gli aggiornamenti che arrivano da Roma e vediamo l'apertura con la cronaca dopo il furto di cherosene a Rone, disastro ecologico e Fiumicino manda il rapporto alla procura. Si tratta di un disastro ambientale e questo almeno è quanto certificato anche in questo articolo cormorani, gallinelle d'acqua e germani reali ma anche pesci, rane, tartarughe e nutri e soffocati dal gasolio avvelenati dalla marea oleosa. È una strage silenziosa quella che da giorni si sta consumando tra le campagne di Maccarese e Fiumicino. I volontari del centro habitat mediterraneo Lippu di Ostia e del WWF hanno già raccolto oltre 50 carcasse di animali uccisi dallo sversamento di cherosene provocato dai furti contro l'oleodotto dell'Eni ma si tratta della punta dell'iceberg di un eccidio dalle dimensioni ancora da accertare perché saranno centinaia forse gli animali morti in giro per le campagne dell'agro romano e mentre resta da verificare la contaminazione delle falde acquifere l'olio nero rischia di compromettere a lungo forse per anni la catena alimentare di zone di altissimo pregio naturalistico e proprio in seguito al grave incidente verificato a Maccarese il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti ha dato disposizione al nucleo operativo ecologico del NOE dei carabinieri di procedere ai necessari accertamenti sulle aree colpite avvalendosi del supporto tecnico dell'ISPRA il ministro Galletti ha costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione e il ministero sta acquisendo in queste ore informazioni dall'ENI e dagli organi competenti le squadre del reparto ambientale marino del ministero dell'ambiente in coordinamento con la Capitaneria di Porto di Roma sono già in azione dal momento del primo sversamento per arginare e monitorare il fenomeno sotto il profilo dell'inquinamento marino e qui vediamo le foto che si trovano sul Corriere in questo caso un'anatra morta ma anche come dicevamo cormorani e non solo anche i pesci insomma vedete le immagini sono eloquenti il danno ambientale, il disastro ambientale è netto per quanto riguarda invece la metro C si tratta di un debutto con i pendolari e poi un vertice sulla sicurezza e allora andiamo a leggere nel dettaglio l'accaduto la metro C alla prova dei pendolari lunedì 10 novembre cioè oggi il servizio della nuova linea metropolitana inaugurata domenica dopo 14 anni dal primo progetto è iniziato come programmato alle 5.30 e sta procedendo regolarmente annuncia l'Attac secondo la municipalizzata dei trasporti si registra una notevole affluenza di passeggeri nelle stazioni Finocchio, Borghesiana e Grotte Celoni anche troppo, secondo un viaggiatore francese che su Twitter lamenta è troppo chiederve di lasciare uscire i passeggeri prima di entrare in carrozza ma questo è un problema di educazione non certo di organizzazione sui social network si sprecano le battute ironiche sulla C dopo l'inaugurazione di domenica con inconveniente tecnico ovvero lo stop dei 5 minuti per il primo treno con il sindaco intrappolato ma nel complesso il debutto con migliaia di romani diretti dalle periferie est della capitale agli uffici in centro sembra andare bene già a domenica a fine servizio si erano registrati 12.000 passaggi ai tornelli e almeno il doppio dovrebbero essere quelli di oggi effettuati sia con i circa 4.000 biglietti venduti direttamente nelle stazioni sia con gli abbonamenti intanto oggi in prefettura a Roma ci sarà un incontro tra i sindaci della città metropolitana il cui territorio è interessato dai servizi della nuova linea tema del vertice la sicurezza le questioni di sicurezza e decoro intorno alle stazioni della nuova metrocidio devono essere affrontate con urgenza ora che si è inaugurata la tratta fino a Centocelle sottolinea il sindaco di Monte Compatri Marco De Carolis che già nelle scorse settimane aveva evidenziato grazie a un video inchiesta del Corriere alcune carenze infrastrutturali dalla mancanza di parcheggi sufficienti per una capolina che si calcola accoglierà fino a 10.000 passeggeri al giorno alla incompleta segnaletica e agli attraversamenti pedonali a rischio sulla Casilina un asse viario su cui ogni anno si registrano una cinquantina di incidenti e in 18 mesi sono morti 7 pedoni quindi anche questo vertice sulla sicurezza sarà di vitale importanza ci torneremo sicuramente domani faremo un bilancio di questa prima giornata ufficiale della Metro C intanto ci fermiamo brevemente e al ritorno ci occuperemo di notizie di taglio locale a tra poco a tra poco Grazie.